Fede ma coi squadra tifi? Fede ma da quant'è che segui il Monza? Fede ma non è che hai un'altra squadra per cui tifi? Beh, oggi queste domande avranno finalmente una risposta poiché la partita di questa sera sarà una partita per me molto speciale, la mia partita del cuore, Monza-Inter. Sabato 7 gennaio 2023, prima partita in casa del nostro Monza ed è un debutto in questo nuovo anno che sarà a tutti gli effetti indimenticabile contro una delle squadre più importanti del nostro campionato italiano, l'Inter. Ebbene sì, come avete potuto intuire dall'inizio del video, è una partita alquanto speciale per quanto mi riguarda nel personale poiché, lo dico senza problemi, io sono nato e cresciuto tifoso interista e nel percorso mi sono appassionato anche ai colori bianco e rossi. Sarà una partita e una serata indimenticabile anche per quanto mi riguarda, venite con me in questo Monza-Inter. Un inizio di partita, ragazzi. A dire poco incredibile, Inter subito in vantaggio, poi pareggio del Monza con un gran gol di Patrick Ciurria e poi grossa disattenzione, altro errore difensivo da parte del Monza, soprattutto di Pablo Mari, che costano il 2-1 in favore dell'Inter. Una partita veramente bella, vivace, proprio quello che mi aspettavo e che volevo. Aspettiamo la fine di questo primo tempo, noi ovviamente ci riaggiorniamo in corso di partita. Che partita ragazzi, che partita! 2-2! Mamma mia! È un pareggio che comunque sa tanto anche di vittoria, seppur non siano arrivati i tre punti, proprio per la modalità con cui è arrivato. Un colpo di testa finale, quasi eroico. E finisce così, sotto la pioggia, questa fantastica serata, mi penso di dire personalmente indimenticabile, proprio per quello che significa per me questa partita, ma anche una partita indimenticabile dal punto di vista del gioco e delle emozioni che ci ha regalato. Tanti gol nel primo tempo, un gol ormai isperato nel finale da parte di Luca Caldirola, insomma una partita, una giornata, una serata che non mi dimenticherò tanto, facilmente. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima avventura. Grazie. Grazie. Grazie.